Per te deve essere difficile mandare avanti la famiglia da sola. Ma che vuoi però? Sei qua perché ti preoccupi della famiglia mia? O della tua? Proprio di questo sono venuto a parlarti. Non mi va che Ciro, che Edoardo mi hacivolo per il copilamento. La guerra è una cosa brutta però. Ma quando ci sei dentro, devi decidere da che parte stare. Sta guerra non è la mia. Però tocca a te fare una scelta. Chissà da scegliere. Tu mi salveresti? Tuo padre? O un infame che si è venduto un amico carnale però? Per come la vedo io? La famiglia prima di tutto. Vuoi rimanere orfano però? Va bene. Come mi è finito? Come ti fai finito? Come ti fai finito? Come ti fai finito? Come ti fai finito? E l'acqua non ti fai finito? E pure quella non ti fai finito? No, mi risponde. Non mi giocerai. Grazie.